conclusa la fase espansiva in italia nel giro di poco meno di un secolo e mezzo dal 266 al 129 avanti cristo roma estese ulteriormente la sua egemonia a tutta l'area del mediterraneo occidentale e orientale in tre tappe fondamentali la prima dal 264 al 146 avanti cristo i romani si scontrarono con cartagine in tre conflitti la seconda dal 215 al 148 avanti cristo furono impegnati in una serie di guerre contro il regno ellenistico di macedonia la terza tra il 200 e il 122 avanti cristo i romani consolidarono il proprio dominio in italia settentrionale e nell'attuale provenza combattendo contro i galli ocelli